Ciao ragazzi, vi mostro una bella app per genotare, che si chiama Zobbe, questa qua. Ecco, questa qua è la funzione, basta aprire, adesso non lo sapeccare, e qui si può registrare la voce e parlare in questa cosa davanti a Zobbe. Vedi un regista, guardi, che lui dopo ti crea un'animazione, e lui ti crea un'animazione, continua a fare un'animazione con la tua voce, di quello che sto dicendo, di personaggi. Se vado a cambiare questo strumento, premendo sulla foto, non l'avevo fatta, quindi, la vuoi salvare. Siamo qui in download, e viene salvato sul, 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 un pochettino lento, perché è pesante, perché si è andato nell'album. Siamo qui, come fai, lo condividi, io metto in pubblica, sullo, sullo store, no, sullo store, sul, non lo so, sullo server di Zobbe. Ecco qua, vuoi vedere un nuovo zonimo, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Continua, crea l'animazione, e lo salvo, è divertente, quindi, si possono fare messaggi, gli, e, e, che ne sa, scherzetti agli amici, tante cose. Può essere un programma piuttosto sospizioso. Ciao, vi saluto, e, alla prossima. Alla prossima recensione.